L'ho preparato, scendo, ma guasci, tirando verso di me, entro di montante l'almento, da qui lo aggancio, passo avanti, lo aggancio e proietto. Attacosù di manierei, porto via, afferro e aggancio, da qui porto la testa indietro per mandarlo fuori assi, alzo la giampa e in contemporaneo uscino il tetro ponte. Grazie a tutti.